Sono 14 gli emendamenti portati in aula questo pomeriggio qui a Mazzara del Vallo. Accanto a me il consigliere Lagrutta, il quale ha portato di questi 14 8 emendamenti a firma sua. Allora, di cosa parlavano questi 8 emendamenti? Emendamenti che comunque sono stati tutti bocciati. Faccio una brevissima premessa. La IUC comporta tre tassazioni. La IUC in realtà è un acronimo. Si paga l'IMU sulle seconde case. Il governo toglie l'IMU per le prime case. Poi si paga la TASI. Dico si paga ma in realtà prendetelo con le pinze perché i comuni nella legge scritto potrebbero stabilire anche di azzerare la TASI. Il comune di Mazzara assieme ad altri 480 comuni, ora il numero preciso non me lo ricordo, ha stabilito invece di pagare la TASI sulle prime case. Quindi IMU sulle seconde case. TASI a 2,5 per mille il massimo possibile sulle prime case. E quindi andiamo a tassare la prima casa. E infine la TARI. Ho anticipato dicendo che, a mio parere, siccome la Costituzione italiana, ma non solo, anche la Carta dei diritti, quella a cui io faccio riferimento, quella internazionale, stabilisce che la casa è un bene principale, è un bene come l'acqua, come l'aria. Quindi andare a tassare le prime case, secondo me è una cosa sbagliata. Penso forse anche incostituzionale addirittura. Perché la casa viene fuori dai ridi delle persone che hanno lavorato e quindi da lavoro hanno pagato le tasse. Le hanno messi da parte. Hanno messo da parte questi soldi e non si sono rivolte anche alle banche per fare un mutuo, per acquistare la casa. E per far questo hanno pagato non solo le tasse, ma anche gli interessi. Hanno messo tutte le loro somme che hanno messo da parte in una casa. Dopodiché se la vengono a tassare continuamente. Dal governo Berlusconi negli anni 90 fino ad oggi, in pratica continuamente si continua, si persegue questa tassazione sulla prima casa che io reputo inopportuna e ingiusta. Questo per quanto riguarda la tasse che si poteva zerare, il comune di Mazzaravallo non l'ha fatto. Detto questo, gli emendamenti miei sono stati otto emendamenti, fatti tutti in una notte. Mi sono concentrato sull'articolo 38 del regolamento, quello che stabilisce le aliquote, o meglio la modalità del pagamento della Tari. La Tari è quella tassa che noi paghiamo, quel tributo che noi paghiamo sulla raccolta dei rifiuti. Fatto 100 la raccolta dei rifiuti, tutti i cittadini mazzaresi devono pagare questo tributo. Però io ho voluto rimodulare l'articolo 38 del regolamento perché chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve pagare di meno. Quindi il legislatore dice che ci vuole una tariffa puntuale, non solo, deve essere legata, e questa è la Costituzione che lo dice, alla possibilità di ogni singolo cittadino di poter pagare. Io ho fatto riferimento a una situazione molto tipica purtroppo in questi anni, ovvero ho preso come punto di riferimento una persona che guadagna il minimo come pensione, 516 euro al mese, e ho visto le varie possibilità che possono venire fuori. Quindi una persona sola oppure con una compagna, ma loro hanno previsto solo una persona di 70 anni. Quindi una persona che sta sola in affitto oppure in casa di proprietà che ha 70 anni. Da regolamento è previsto una riduzione della quota variabile. Gli riducono il 50% della quota variabile. Io invece cosa volevo fare? Volevo intanto distinguere per categoria, perché ogni categoria, se io sto solo in casa d'affitto, io oltre al fatto che guadagno 516 euro sto pagando anche l'affitto e quindi dovrei pagare di meno. Se io sono in casa in proprietà, ma per esempio ho sempre 516 euro, è giusto che io paghi di meno rispetto a un contribuente invece più florido che ha le tasche piene. In sostanza i suoi emendamenti miravano appunto a agevolare quelle fasce di persone che sono molto disagiate, senza comunque ledere a quanto capivo il bilancio comunale. Tant'è che lo stesso dirigente ha dato parere favorevole ai suoi emendamenti. Come mai sono stati bocciati? Per partito preso. A questo punto devo pensare questo. In realtà questa rimodulazione non vuol dire che noi stiamo togliendo le tasse alla gente. No, le tasse, il tributo per la raccolta è 100, pagheremo tutti insieme 100. Chi ha di più pagherà di più, chi ha di meno paga di meno. Chi addirittura è in situazioni proprio veramente indigenti non dovrebbe nemmeno pagare. C'è scritto il regolamento addirittura in un comma che si dà da regolamento mandato al dirigente del settore dei servizi sociali di stabilire che il dirigente non fa pagare il tributo a chi sta male. Non solo, quindi non solo stiamo demandando per regolamento a un dirigente di arrogarsi lui il diritto di non far pagare un tributo che noi prevediamo. Non solo questo, ma gli stiamo anche dicendo, perché è scritto il regolamento, che intanto il tributo lo paghi per quest'anno perché appunto sempre 100 deve essere il tributo. Ma te lo scontiamo che il prossimo anno, quindi io vado ai servizi sociali, non posso mangiare, cioè i figli e i bambini che devo fare la spesa non so come mantenerli, vado ai servizi sociali e gli dico che sono in difficoltà e loro che cosa fanno? Dicono ok, tu potresti anche non pagare 6 esente, ma non quest'anno, quest'anno intanto paghi. Dal prossimo anno ti facciamo lo sconto. Ma dico, siamo completamente distanti, distinti da quella che è la vita reale delle persone. Oggi si è fatta tanta polemica riguardo al voto di oggi, perché è stato convocato un consiglio comunale in maniera urgente, perché comunque gli atti sono stati mandati anche ai consiglieri comunali e non proprio in tempi debiti. Un regolamento va approfondito, va letto, va studiato, va anche come dire... Quali sono stati i tempi? La collaborazione, va emendato, eventualmente le cose migliori vanno fatte. Che cosa vuol dire questo? Mi spiego meglio. Se il primo settembre mi arriva una mail con la proposta di regolamento, la proposta di delibera e io ho tempo invece fino al venerdì mattina, così mi sono detto al telefono per poter presentare emendamenti, praticamente cosa faccio? Io ho praticamente tre notti senza dormire cosa che ho fatto per leggerlo, studiarlo, vedere il legislatore cosa ha previsto, dove poter intervenire e fare gli emendamenti. Ne ho presentati otto, ma se avessi avuto il tempo di parlare con i dirigenti adeguatamente, di parlare anche con le altre forze politiche adeguatamente, tutti avremmo avuto il tempo di riflettere e di modulare le tasse nella maniera più corretta, nel chi paga di più è più benestante, chi paga di meno vuol dire che sta male, o addirittura chi è in difficoltà seria gli sentiamo certe cose dove possiamo intervenire per legge. Questa cosa non è stata assolutamente apprezzata, è iniziato poco tempo, non solo. Io ho notato che il discorso era quanti emendamenti ancora ci sono, la domanda è quali emendamenti ci sono, vediamo quelli che sono valutabili nel merito, entriamo nel merito e eventualmente vediamo se sono approvabili. Questa cosa non è successa, c'erano i pareri favorevoli in tantissimi emendamenti, in quasi tutti, forse in uno solo c'era un parere non favorevole, in quello appunto relativo al dirigente, ma lasciamo stare. Dico ci sono pareri favorevoli di regolarità, di legittimità, di contabilità, non andiamo a intaccare il bilancio, perché non si sono fatte queste cose, perché non si rimodulava l'Atari in modo che chi pagava di più era perché è stata meglio e chi pagava di meno, non lo capisco questa cosa. Non solo hanno previsto, un'ultima cosa, hanno previsto una sorta di agevolazione rispetto alle persone che hanno 70 anni, solo questa è prevista, 70 anni per le utenze domestiche, hanno 70 anni, hanno 6.000 di, se stanno in affitto oppure no, queste persone che hanno 70 anni e sono in queste condizioni praticamente possono avere l'agevolazione di pagare il 50% della quota parte variabile dell'Atari. Però se non è specificato, io ho posto un emendamento per vedere di aggiungerlo, se in questa casa c'è una pertinenza, ovvero per esempio un garage, il 70enne che ha quelle caratteristiche non ottiene l'agevolazione, perché c'è il garage. Caliamo quelle cose che diciamo come regolamentari, le caliamo nella realtà, se le caliamo nella realtà e vediamo che l'applicabilità è difficile, andiamo a rimodulare, andiamo a vedere come poter fare. Ora io mi trovo il 70enne, quindi con le sue difficoltà, che ha 6.000 euro ISE, se c'è una casa che vive solo o in affitto, arriva all'ufficio e dice io posso avere l'agevolazione, perfetto, ma tu c'hai il garage, sì c'ho il garage, perfetto, non ci rientri. Dico ma è normale, questo succede perché la gatta che fa i gattini in fretta, spesso li fa ciechi. Il discorso che bisognava votare entro il 10 settembre, il legislatore ha previsto che se si vota entro il 10 settembre il Consiglio Comunale, il Comune, modulano le tariffe e il 18 settembre mandano tutte cose al Ministero, e il Ministero le pubblica. Però la legge dice anche che se il Consiglio Comunale e l'amministrazione non si esprimono e non esprimono la tariffa, allora che succede? Che la tariffa è quella stabilita dal legislatore, quindi dal governo, all'1 per 1.000 per la Tasi. Minimo in pratica. Minimo, quindi la base minima era 1 per 1.000 sulle case, questo stabilisce, ma addirittura a Ragusa è stato fatto, a Ragusa c'è un sindaco, si chiama Piccitto, ha zerato la Tasi, quindi ha stabilito che nel suo Comune tutti quelli che hanno la proprietà della prima casa non pagano, e invece no, noi paghiamo. L'assessore Billardello faceva presente che c'è un debito che il Comune paga di 2.400.000 euro su debiti pregressi delle precedenti amministrazioni, perfetto. Se noi equipariamo le cose, stiamo stabilendo che siccome il gettito sulle prime case è di 2.800.000 e il debito che noi paghiamo è di 2.400.000, è come se avessimo noi deciso che quel debito che il Comune ha lo stiamo pagando tutti i possessori delle prime case. Sulla Tasi, la Tasi è una tassa che paghiamo, che si pagano i possessori delle prime case, la pagano per i servizi indivisibili, quindi praticamente tutti i cittadini pagano per esempio l'illuminazione pubblica. Però la domanda è, il legislatore ha stabilito che chi vive nelle periferie e per adesso non ha la corrente elettrica, non ha le luci, materialmente siccome è un servizio indivisibile, paga anche per la luce che c'è in Piazza della Repubblica e in Piazza Mocarta. La domanda è, visto che è modulata in questa maniera e serve anche a questo, ce la facciamo come amministrazione, come Consiglio Unile a fare in modo che veramente sia non solo indivisibile, ma di questi servizi ne possano soffrire tutti, che la luce elettrica e l'illuminazione sia presente non solo in Piazza Mocarta, cosa che paghiamo tutti, ma anche in tutte le strade e anche nelle periferie? Questa è la domanda.